Hai un neonato? Allatti un neonato? Allora si è successo! Oh che carino! Ma lo allatti? Ah lo allatti! Che carino! Ma sei sicura che cresca? Non è che il tuo latte è acqua! Devi dare degli orari! Devi avere degli orari fissi! Piange! Ha fame! Scusa, mi fai vedere il tuo seno? No, no, perché già si vede se hai il latte o non hai il latte, se è pieno o non è pieno! Ma dai un biberon però! Comunque secondo me il tuo latte è poco nutriente! E ne hai pure poco! Secondo me mangia troppo! Dovresti fare la doppia pesata! Lo pesi, lo allatti e vedi quanto latte ha preso! Si sa che si fa così! Secondo me mangia poco, piange! Si ma non allattarlo troppo eh! Perché poi i bambini che vengono allattati per troppo tempo hanno tutti delle turbe psichiche! Avrà dei problemi d'adulto! Cioè a sei mesi ancora lo allatti? Beh! Mi raccomando eh! Non mangiare cipolle! Se no il tuo latte sta di cipolle e poi lui sta male! Ma perché lo allatti? Alla fine il latte artificiale sazia meglio! A volte è anche più nutriente! Quindi! Si però non è possibile! Ce l'hai sempre attaccato al seno! C'è un po' di pausa! E poi ci sono quelle che... Ho cresciuto cinque figli! E devi lasciare tre ore di pausa tra una poppata e l'altra! Non puoi dargli sempre il seno! Lo dico io perché io lo so! Ma alla fine mamme! Sapete cosa vi dico? Ma chi se ne frega! Ma fate quel che vi pare! Le mamme siete voi!